Scegli il meglio, scegli Fastweb, la rete più veloce d'Italia. Raggiungici in negozio per scoprire tutte le nuove offerte. Tu sei futuro! Sulla questione di un terzo mandato come presidente della regione Campania, l'attuale governatore Vincenzo De Luca già nei giorni scorsi si era detto disposto a volerlo perseguire se vi fossero state le condizioni giuste per una sua candidatura e per una sua eventuale rielezione. La Campania non ha ancora recepito la legge in base alla quale nessuno può candidarsi per un terzo mandato come governatore regionale. Perciò, secondo la visione di De Luca, questo gli sarebbe possibile. È dal 2015 che l'attuale governatore è in carica. Tuttavia lui, in orbita PD, viene criticato dalla stessa segretaria del PD nazionale, Ellie Schlein, la quale avrebbe dichiarato alla stampa che nessuno è indispensabile, nessuno è eterno, quasi lasciando trasparire il desiderio di rinnovamento o di cambiamento. De Luca stesso ha ribattuto causticamente, chiedendosi se Schlein avrebbe mai osato dire ad Aldo Moro, presidente del Consiglio dei Ministri più volte, che anche lui non fosse indispensabile, dato che la sua uccisione, avvenuta a fine anni 70, causò un blocco politico di difficile soluzione. Sentiamo De Luca nella sua ultima informativa. Deve funzionare la ragione critica, non gli schemi o le affermazioni banali. In ogni caso, queste sono materie sulle quali avremo modo di discutere con grande serenità in maniera laica, in maniera laica, io riconfermo la mia disponibilità ad avere un dibattito pubblico, un dibattito pubblico con chiunque, sui temi della trasparenza, dell'etica politica pubblica, sui temi del governo, sulle urgenze o meno, sulle capacità o meno delle singole persone. attenti, uno non vale uno. Fermo restando che nessuno è indispensabile, nessuno toccando ferro eterno, ma ci sono situazioni e responsabilità e processi in corso nei quali bisogna capire quello che è utile. E non partendo dagli schemi, delle correnti, le coalizioni, i gruppi, ma partendo dai territori.